La bella notizia in realtà l'ha data il sindaco Pierluigi Biondi in apertura della presentazione della decima edizione del Gets Italiano per le terre del sisma. In giunta ci va il progetto esecutivo per il completamento e l'adeguamento sismico del teatro comunale, 14 milioni di euro a disposizione, la parte finale dei lavori ovviamente. Questo consentirà di accelerare la riapertura del teatro fondamentale per la città dell'Aquila. Si diceva decima edizione del Gets Italiano per le terre del sisma, la manifestazione che dal 2015 ha portato e continua a portare all'Aquila nelle regioni colpite dal terremoto, la più importante e numerosa rappresentanza del Gets Italiano e la testimonianza reale di come cultura e spettacolo dal vivo contribuiscono al consolidamento delle comunità locali. Direzione artistica 3 anche per questa edizione con Francesco Diodati, Gabriele Mitelli e Ugo Viola. Il tema sarà abitare il suono, oltre 300 artisti coinvolti, oltre 60 eventi, 15 location e 20 mila spettatori attesi. La manifestazione vede coinvolta la Federazione Nazionale Gets Italiano con il coordinamento operativo dell'Associazione Gets All'Aquila, sostenuto dal Ministero della Cultura, Comune e Regione, con tanti partner e sostegni come sponsor SIAE, manifestazione che ormai cammina con le proprie gambe. Nasce come una manifestazione di sistema e continua ad essere di sistema, oggi organizzata dall'Associazione Gets All'Aquila, quindi è un'associazione pienamente aquilana, io sono pro tempo represidente a garanzia del fatto che la manifestazione continua ad essere legata alla filiera del jazz, quindi rappresentanza di 85 festival italiani, oltre 500 musicisti di jazz e tante categorie che attengono anche alla Federazione Gets Italiano, quindi dalla formazione alla promozione del jazz. Anche quest'anno è un programma molto ricco, ma soprattutto un spiccato coinvolgimento della città, di tante associazioni culturali e istituzioni che man mano la manifestazione sta coinvolgendo all'interno della manifestazione, anche in vista dell'Aquila, capitale italiana della cultura, 2026. L'edizione 2024 ha preso già il via il 23 agosto a Camerino, anche quest'anno il programma della due giorni è molto ricco, ci saranno le street band per il centro, artisti come Simone Graziano, Federico Nuti, Francesco Negro, Valeria Sturba, Sara Ardizione e tanti altri. Il 31 sera, nella scandinata di San Bernardino, si celebreranno i dieci anni della manifestazione, con diversi ospiti, come Nico Gori, Eleonora Strino, Francesco Cafiso e Favda, ma saranno davvero tanti gli spettacoli e le presenze, eppure nella giornata successiva.